Nell'assumere la direzione di Maxim mi sono posto in accordo con l'editore il problema di un cambiamento che dovesse essere un cambiamento più o meno radicale, più o meno completo oppure una semplice evoluzione. Abbiamo optato per questa ultima versione della rivista con un'evoluzione che riguardasse temi, forme e contenuti. In particolare i contenuti di questo numero riguarderanno l'odio. L'odio fa parte dei sentimenti, fa parte dei sentimenti delle persone. Delle persone si occupa in particolare Maxim, al di là delle etichette e al di fuori delle etichette. L'odio nel caso specifico non è esteso ovviamente a tutti i contenuti della rivista ma ad una parte di essa e in particolare riguarda l'odio seriale, l'odio degli odiatori di professione nella rete. Ci occuperemo in futuro soprattutto dei sentimenti, i sentimenti delle persone e il loro privato perché questo ci interessa più che le etichette che le accompagnano. Naturalmente senza tradire la vocazione e la tradizione della rivista che ha un indirizzo prevalentemente maschile ma che vorremmo che appartenesse un po' anche al pubblico femminile. Stili di vita, benessere, salute, sport sono tutti argomenti che fanno parte del DNA della rivista. Avremo anche degli argomenti particolarmente interessanti e anche a volte un po' controcorrente. Per esempio dedicheremo delle pagine di qualità al genio ingegneristico di Riccardo Morandi, avveniristico e davvero d'avanguardia. Dedicheremo altre pagine allo sport nella persona di Ivan Zaitsev che è il capitano della Nazionale Italiana di Pallavolo che in questi giorni tanto sta appassionando il pubblico perché come detto Maxime si occupa delle persone e non delle etichette che vengono a queste persone appiccicate. Grazie. 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 Grazie.